Il 56% delle imprese beneficiari dei contributi pubblici ha realizzato progetti di ricerca che diversamente non avrebbe potuto realizzare e il 35,5% ha visto accelerare e crescere gli investimenti. È il risultato di uno studio condotto dall'ASVAP, l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche, presentato al Comitato per la Qualità della Normazione e la Valutazione delle Politiche del Consiglio Regionale.